Eugenio Gianni, Presidente del Consiglio regionale, a Firenze continuano a chiedersi in tantissime, ma prima o poi lo stadio ci saranno le condizioni per farlo oppure no? Speriamo di sì. In questo momento è una situazione un po' transitoria, nel senso che si sta aspettando di vedere come si evolve questa diatriba che si è creata fra il Comune e gli esercenti della Merca, per coloro che operano all'interno della Merca, perché secondo come si era sviluppata la dialettica fra Fiorentina e Comune doveva essere totalmente liberata. E quindi tutto questo sta già dando un po' una sensazione di stasi. Io personalmente cosa devo dire? Devo rimettermi un po' agli atti di volontà del Sindaco e dell'amministrazione comunale che ritengono che possa essere superata questa situazione. Io quello che a loro ho detto è che però abbiano la forza di capire se davvero questa è la strada, perché se questa non è la strada meglio allora operare secondo le altre due indicazioni, cioè quella di ritornare a Castello, visto che tutte le beghe giudiziarie là sono finite, era quello il motivo per cui dal 2008, dal primo progetto della valle su Castello non si fece nulla, fu tutto sequestrato per la vicenda fondiaria, oppure si lavori sullo stadio esistente per poter magari consentire lì di poter modernizzare e coprire quello che sono la gran parte dei posti. Il mercato della Fiorentina non è ancora partito, ci si aspettano i colpi per rinforzare la squadra, ma qual è l'umore della valle, in particolare di Andrea della valle, che nelle ultime settimane è rimasto in silenzio? Ma l'umore è buono. Io ho avuto modo di sentirlo prima del consiglio di amministrazione, che poi mi disse che non ce l'avrebbe fatta, il 17 di giugno, ma devo dire che l'ho sentito motivato e sempre molto attaccato alla Fiorentina. Poi la conferma l'ho avuto nel consiglio di amministrazione, dove sono venuti tutti, a parte Andrea della valle, l'ha guidato Mario Cognegni, ma essendo Mario Cognegni tutt'uno con Andrea e Diego della valle, il vederlo dare indicazioni in modo chiaramente da investimento sulla società, con un rapporto diretto con Corvino, il quale è stato sguinsagliato a operare a tutto campo per poter rinforzare la squadra, mi fa pensare con ottimismo. Quanto meno l'obiettivo è quello di mantenere questa posizione da squadra in Europa, che ci possa anche far mantenere quell'ottima considerazione che abbiamo in Europa, dove nel ranking siamo la terza squadra, dopo Juventus e Napoli fra le squadre italiane. Poi se scatta un meccanismo che porta la Fiorentina nella prima parte del campionato ad avere ottimi risultati, secondo me questa volta, a differenza dell'anno appena trascorso, avremo anche i della valle che ci investono per poter potenziare la squadra. In attesa della definizione del ruolo di Jorgensen è possibile vedere all'interno della Fiorentina un maggior numero di ex viola con ruoli comunque importanti? Ci sono dei segnali, soprattutto l'ho visto nei consigli di amministrazione, Andrea della Valle mi ha chiesto anche una mano in questo senso, che ci portano a vedere un rapporto diverso. Ad esempio si vuole andare a tutti i ritrovi che i Viola Club organizzano, si vuole consentire ai giocatori, cosa che non era avvenuta negli ultimi anni, di poter essere più presenti alle occasioni di incontro con la tifioseria, si vuole ritrovare anche con il centro di coordinamento Viola Club quel rapporto giusto che peraltro ha visto Filippo Pucci e gli altri del centro di coordinamento Viola Club consentire una stanza per gli ex Viola. Insomma, il popolo Viola, inteso come comunità, si sta ricomponendo.